Ben tornato Goodyear, ben tornata Proseguiamo nella descrizione di Windows 8.1 Nel dettaglio andiamo a vedere come aggiornare Windows 8 a Windows 8.1 Sarò ripetitivo ma ricordati di avere un account Microsoft In possesso di tale parametro puoi accedere al Windows Store tramite il sistema operativo Dopo aver avuto accesso al computer tramite l'account Microsoft Lo scopo di questo accesso non è tanto quello di spiegarti come utilizzare in pieno il negozio Ma specificamente in questa lezione come impiegare lo Store per poter trasformare la tua versione di Windows 8 in 8.1 Questo in maniera del tutto gratuita, in questo caso specifico Sarà a pagamento come visto nella scorsa lezione solo se provieni da una versione precedente dei sistemi operativi Microsoft E ammesso che il tuo hardware supporti tale sistema operativo Per poter scaricare ed installare 8.1 dovrai aver già installato come ben sai almeno due aggiornamenti Denominati KB 2871389 e KB 2917499 Qui una rappresentazione grafica dei due aggiornamenti necessari per poter avviare l'installazione di Windows 8.1 A questo punto puoi senz'altro avviare l'accesso al Microsoft Store Dalla schermata Start in Windows 8 troverai un riguardo con la scritta Store Non necessariamente in questa posizione come riportato da questo screenshot Cliccaci sopra e si avvierà la procedura per accedere al negozio online Una grafica tipo questa per qualche secondo si presenterà Avuto accesso ti compariranno vari riguardo immagini sui quali potrai cliccare per scaricare gratuitamente O a pagamento programmi, applicazioni, file di varia categoria Quella però che interessa a noi è questa specifica schermata nella quale troverai Aggiorna a Windows 8.1 gratuitamente Cliccaci ovviamente sopra Dopo non ti resta che leggere quanto descritto se vorrai nella nuova schermata E cliccare semplicemente su scarica Da notare il peso del download Le due azioni sono praticamente terminate Perché il processo di download di Windows 8.1 Si avvierà e sarà del tutto autonomo Qui rappresentato uno screenshot del proseguo del download Che avverrà con un tempo variabile Dovrai monitorare soltanto le operazioni Nel caso il processo si interrompesse o dovrai interromperlo È possibile recuperare accedendo di nuovo allo store E riavviando il download dal punto in cui si era interrotto La durata del download non è prevedibile In quanto dipende dalla disponibilità della tua banda internet E dalle risorse hardware e software del tuo computer Puoi comunque eseguire altre operazioni durante lo scaricamento del programma Fino ad un certo punto nel momento in cui avrai terminato Ad un certo punto infatti il processo ti notificherà Che il computer dovrà essere riavviato Avrai il tempo comunque necessario Per poter salvare il lavoro che stavi eseguendo Al termine acconsenti al riavvio Ora inizierà l'installazione vera e propria Con una durata vadabile nell'ordine comunque di qualche decina di minuti Verso il termine di tale contesto Troverai una situazione analoga A quella dell'installazione di Windows 8 Infatti ti avrà chiesto di accettare la licenza d'uso Le impostazioni rapide o personalizzate L'accesso al computer con un account locale o Microsoft Come del resto visto nella lezione precedente anche Inoltre anche in questo caso la novità rispetto a Windows 8 Con la possibilità di utilizzare lo spazio web gratuito di OneDrive Per archiviare i tuoi file Puoi comunque decidere di disattivare come ben sai Tale opzione nella schermata presentata Oppure in seguito nella sezione del sistema operativo impostazioni PC Al termine avrai il tuo sistema operativo aggiornato a Windows 8.1 Gooder eccoci qua per accedere allo store e aggiornare Windows 8 a Windows 8.1 Dalla schermata a start individua il pulsante con la scritta store Cliccaci sopra e avvierai la procedura di accesso al Microsoft Store Premesso che l'accesso al computer abbia avuto luogo tramite l'account Microsoft Quindi clicchiamoci sopra e attendiamo da questa schermata l'accesso al Windows Store Una volta entrato nello store avrai l'opportunità di eseguire alcune operazioni Tra le quali installare applicazioni o scaricare dei file Ma ciò che ci interessa è una volta entrato il pulsante aggiorna Windows Potrai visionare le varie categorie per individuare file e applicazioni Che potrai scaricare ed installare sia gratuitamente che a pagamento sul tuo dispositivo Ma ora indirizziamoci nell'aggiornamento Individua il pulsante e cliccaci sopra Ti comparirà questa nuova schermata che ti fornirà informazioni relative a Windows 8.1 E eventualmente anche se la tua macchina potrà supportare questo aggiornamento Individua comunque il pulsante scarica, cliccaci sopra e avviamo così la procedura per il download In altro troverai dei pallini che scorrono fino al raggiungimento della nuova schermata Bene, in questo momento puoi notare che il download di Windows 8.1 è iniziato Potrai decidere di eseguire altre operazioni durante questo processo Infatti il download continuerà in maniera del tutto autonoma Potrai anche interagire con il processo Infatti puoi annullare o mettere in sospensione il download Simuliamo appunto la pausa cliccando su questo pulsante Potrai anche spegnere oppure riprendere il download per l'aggiornamento Il tempo non è preventivabile ma comunque non impiegherà che qualche decina di minuti Dovrai solo controllare che tutto avvenga correttamente Ad un certo punto il sistema ti chiederà il riavvio per proseguire con l'installazione Quando avrà quasi terminato dovrai interagire per alcune impostazioni Cosa già vista nelle precedenti lezioni Prima di poter assaporare il nuovo desktop di Windows 8.1 A questo punto avrai terminato e potrai aglietarti col nuovo sistema operativo Noterai alcune diversità rispetto a Windows 8 Come la ricomparsa del pulsante Start di collegamento alla schermata omonima Ma di questo ne parleremo dalle prossime lezioni Bene, nella prossima lezione di nuovo il riepilogo e poi il quizzone Ora un forte saluto, ciao a presto da Gallo e alla prossima Grazie a tutti